Siamo arrivati all'attacco del Passo Jau, uno dei più bei passi delle Dolomiti. Vediamo se riusciamo a farcela. Vediamo se sentiamo Gaia. Cosa dici Gaia? Che Dio me la mandi buona! Questa cosa si fa subito seria, si fa la dipendenza in medio del 10% in tutto il Passo. Siamo arrivati all'attacco del Passo. Siamo arrivati all'attacco del Passo. Siamo arrivati all'attacco del Passo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti